le novità che stanno per arrivare in questo dicembre sono davvero tantissime abbiamo visto di già l'arrivo del winterfest e ve ne ho parlato proprio nel video di ieri ma ci sono tanti altri dettagli che forse vi siete persi in questi giorni stanno per arrivare delle collaborazioni molto interessanti la prima è quella che vediamo proprio oggi nel negozio di gears of war ne parliamo proprio adesso e vi faccio vedere anche un sacco di altri links ci spostiamo subito quindi nel primo argomento di oggi ed è proprio un tweet direttamente di donald mustard dove dice taking off the game awards with best date ever che cosa vuol dire praticamente qua è una foto sua dove stava annunciando appunto l'inizio dei game awards che ci sono stati questa notte se non ricordo male dove fortnite però non ha vinto nessun premio e dovrebbe essere la prima volta dall'uscita di fortnite che l'azienda non riceve appunto nessuna onoreficenza da parte di quella che è la kermess mondiale più importante nel mondo della videoludica in questa foto però ci sono anche delle altre cose da notare ad esempio la mascherina che porta il ragazzo di fianco a donald mustard che sarebbe praticamente suo figlio il più grande e come vedete la mascherina dovrebbe essere la gundam flat mask quindi un piccolo easter egg anche in quella foto questa mascherina dovrebbe arrivare probabilmente nello shop di epic games e quindi essere acquistata per tutti quelli che sono dei fan e che vogliono avere questo ricordo ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché si parla anche della possibilità di fare clip su fortnite è molto interessante questa cosa soprattutto per i giocatori di da console quindi xbox nintendo switch o comunque playstation you are be able to record clips of your gameplay and upload these clips afterwards quindi che cosa vuol dire per tutti quelli che giocano da console e se volessero salvare i loro progressi dovrebbero utilizzare se non ricordo male una game capture card quindi la scheda quella di acquisizione per il segnale che possa poi essere mandato al computer oppure salvato direttamente sul dispositivo con questa nuova feature che dovrebbe arrivare su fortnite la possibilità di generare clip è molto più immediata questo vi farebbe salvare anche un sacco di cash che sotto il periodo natalizio non fa assolutamente male e che quindi ci auguriamo arrivi con i prossimi aggiornamenti ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ci siamo persi con la maschera di gundam no sto sbagliando ah questa è un'altra cosa molto interessante sembrerebbe che tra qualche settimana sia possibile craftare gli oggetti e quindi ottenerne di nuovi fin qui tutto normale dite perché siamo abituati a vedere la possibilità di creare le armi ad esempio con le viti oppure ai tempi con i pezzi di carne vi ricordate ma qui si parla di associare in questo caso i funghi speciali con il lanciabende la domanda è torna veramente il lanciabende perché guardate un po che roba si dice che associandoli verrebbe fuori lo sparaslurp mentre sotto il fatto di associare dei pepper con delle splash darebbe appunto le splash peperine questo potrebbe anche essere il motivo del come mai c'è un un drop rate di splash esagerato cioè ogni forziere che apri trovi dentro delle splash stiamo attenti e stiamo aggiornati anche su questo argomento perché è davvero super super interessante e andiamo avanti perché arriverà anche per tutti coloro che hanno preso il crew pack il lo standardo che non è stato consegnato questo qui ragazzi l'icona del flip in poche parole quindi l'isola che si gira come è successo appunto nell'evento finale del capitolo 2 servirà ancora qualche giorno per ottenerlo ma se una volta aprirete fortnite vi troverete nelle ricompense questo banner sappiate che era vostro diritto averlo perché con la crew pack non era ancora stato consegnato e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo anche che la patch 19.10 è stata aggiunta agli staging server che cosa vuol dire vuol dire che praticamente stanno testandola nei server privati degli sviluppatori di fortnite e quando una patch è aggiunta agli staging server molto probabilmente nel giro di una settimana poi viene rilasciata pubblicamente questo mi fa pensare che martedì prossimo potremmo avere il primo aggiornamento della season 1 del capitolo 3 anche qui ovviamente sarò in live per vedere tutti i leaks come al solito ma andiamo avanti a parlare di un'altra curiosità di croning archie archiement emot caps out at 99 wins allora che cosa succede praticamente se adesso fate 99 vittorie vi vengono contate nelle mot quello e quella della corona c'è un piccolo fatto se fate più di 99 vittorie per adesso non vi vengono conteggiate ma aumenta il tempo in cui vengono fatte vedere le 99 win quindi è un dettaglio abbastanza minimale ma fortnite status se ne è accorto e risponde dicendo a tutti i vincitori di corone non vi preoccupate perché nei prossimi update aggiorneremo il counter delle corone che andrà over 99 quindi poi vedrete 100 101 e via dicendo fino alla fine quindi per tutti quelli che hanno già fatto 99 win e sareste dei campioni non vi preoccupate fra poco vedrete tutti i numeri correttamente parliamo anche del nuovo bundle che è uscito oggi ragazzi il bundle di gears of war tutti lo possono trovare nello shop è splittato in due grandi blocchi le due skin e poi i picconi e i altaplani ma la cosa che ci interessa è che esisterà molto probabilmente una variante esclusiva per tutti i giocatori da xbox intanto ci sono anche come vedete degli spray che credo facciano parte di questa variante esclusiva spray di gears of wars e ovviamente quella che state vedendo alla mia destra è la versione dark di marcus che appunto potrà essere ottenuta solamente da chi utilizza un xbox è una notizia che sta girando quindi non c'è ancora una conferma al 100% se sarà anche disponibile per i giocatori da playstation quindi o da switch quindi da console in generale ma sappiamo che arriverà anche qui ragazzi ovviamente state aggiornati perché cercherò di tenervi super aggiornati appunto su quello che succede andiamo avanti a parlare di un altro argomento perché there's an upcoming point named covert canyon coming near week 7 quindi alla settimana numero 7 arriverà un nuovo una nuova location tra l'altro si parla anche che il condo canyon quindi una delle location che già conosciamo potrebbe essere sostituita con una base delle guardie poi è una roba super interessante questa perché vorrebbe dire ricollegarsi come sempre alla storyline principale dove appunto sono presenti anche nei vari trailer nei vari spezzoni cinematografici le guardie oi e questa invece è un'altra cosa super interessante perché è confermato un easter egg con il nuovo videogioco di matrix se voi andate a a guardare le immagini del nuovo trailer di matrix o comunque cercate in giro matrix x fortnite vedrete che esiste un lama proprio di fortnite nella piazza principale dove appunto si svolgono alcune scene del gioco inoltre nei file di gioco è stata trovata questa texture che a me personalmente sembra molto somigliante ai caratteri che si utilizzano in matrix e che lo contraddistinguono ovviamente come film della cinematografia mondiale sarebbe veramente bella anche questa collaborazione credo che sarà anche fattibile e non vedo l'ora ovviamente di vederla insomma ragazzi anche per oggi il video news termina qua io spero che vi siete divertiti a guardarlo vi ricordo di iscrivervi al canale dai un bel pollicione raga aiutatemi a crescere noi ci vediamo sulla piattaforma viola e al prossimo video news ciao